Dai minchia vieni qua, guarda come scappa, ora si gira e cerca di buttarmi giù, eccolo it's a trap brutto stronzo Zio seriamente hai veramente scassato tre quarti di minchia, no eh raga qua ho fatto la cazzata io però eh, qua ho fatto la cazzata io Wow già avete ben tornato nel canale guardare ci siamo in un nuovo video oggi senza webcam raga mi dispiace però boh non c'ho voglia di usare la webcam e quindi lo facciamo senza tanto non penso sia troppo un problema Comunque ragazzi oggi siamo incredibilmente qua su Sky Central perché voglio andare a giocarmi delle bad wars voglio fare eh eh ok perfetto allora raga niente siamo su Sky Central Volevo portarvi un video così sulle bad wars un po' più semplice non so poi se sarà semplice oppure di eh però insomma dai Comunque una cosa che non ho mai fatto è spammare un po' sul mio canale YouTube appunto il mio Instagram ragazzi sotto in descrizione volendo c'è Instagram anzi no volendo dovete andare su Instagram e seguirmi No raga eh perché sennò non è bello no? E inoltre se state guardando questo video da telefono fate una cosa girate il telefono tipo per dritto così potete vedere cioè così potete andare subito nella sezione mi piace Mettere un mi piace perché ultimamente i video fanno abbastanza cagare con i like e quindi gradirei insomma dai un po' di supporto per piacere Quindi forza mettete il mi piace anche se siete da computer e state guardando il video in tipo schermo intero andate un attimo in basso a destra Infatti insomma andate a mettere il mi piace perché raga è importante il like è importante e basta Quindi questo qua è un video molto molto semplice e molto molto tranquillo perché appunto non volevo far qualcosa di troppo complicato Voglio dirvi che il sabato usciranno le sdrogocorse come vi ho già detto nel video per il mio compleanno Usciranno delle sdrogocorse molto molto carine anzi carine molto molto belle assieme a 5 o 4 persone tra le quali Rider Black Quindi signori avremo Rider Black pure su GTA 5 Io bro è la madonna però questo qua cacciarola lui ha messo troppo bene Cioè troppo dovrei un attimo scombarlo un attimino Eh vaffan... Eh raga ho maledetto lui perché c'aveva la... c'aveva il fottutissimo corpetto e coso in ferro Allora la spada in ferro la mettiamo qua dentro e adesso però non ho una spada in legno Però io dovrei andare un po' al centro e prendere quel cosino sinceramente Dai minchia vieni qua guarda come scappa ora si gira e cerca di buttarmi giù Eh però io sono troppo sveglio per te bro Non ci credo... Sta laggando sta laggando sta laggando ora si gira ancora ma... ma perché? E la madonna sto qua ha già i cosi in diamante porca miseria Raga c'è qualcuno che mi sta fre... ah eccolo buongiorno eh Raga sbaglio... ah no non è lo stick Ah ah allora io ho preso spavento per niente Sì ma frate eh ma che palle eh ma che palle però Raga c'ho quattro... c'ho quattro smeraldi non vorrei dire eh vorrei portarli a casa Solo che sto lasciando il mio letto praticamente scoperto no? Cioè scoperto ecco ecco di... eh ehi L'ho appena detto no? L'ho appena detto Madonna tu sei babbo come poche cose al mondo sai zio Senti casa dei uno sei tre io non vorrei no fare troppo il cattivo il monello Tanto tutto è nei fili proprio di sotto in maniera simpatica Adesso si sarà nascosta da qualche parte Eccolo qua il minchioide E allora sei una bruttissima persona te l'hanno mai detto no? Ma te lo dico io adesso in questo istante Allora cosa ho fatto in questo istante? Ho fatto... mi sono fatto il corpetto in tutte le robe in diamante Ho preso la spada in ferro e tu giuro che ti stacco la testa Allora c'ho cinque diamanti no? E con questi cinque diamanti potrei fare qualcosa di molto simpatico Comunque ditemi se la qualità video vi sembra migliorata Perché sto registrando con l'applicazione del... cioè quel programmino che ti dà proprio... Che ti dà l'invidia con la scheda video Tipo sai una scheda video mi sembra dalla 960 in su ti danno sto programmino qui Che ti permette di registrare i video e tutto quanto Io per dirvi c'ho la 1050 Ti quindi insomma ce l'ho perché sono potente Vediamo di colpirlo Faaaaaa L'ho colpito sfigato Poi non so perché ho detto fa Beh Comunque io non voglio starmene qui quindi me ne andrò molto cacciato qua E invece no perché lui ha l'arco Sì ma zio sei veramente un po' scassa cazzi sai Ti convi... dai No! No! Fuck! Maledetto! Ho tipo fatto il verso di Homer però va bene Regà boom basta una mela d'oro e andiamo di cattiveria Molto molto cattivo Eccolo it's a trap brutto stronzo Maledetto Io però ho mangiato la mela d'oro Ho mangiato la mela d'oro Vai 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 Sì fuck 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 Sì vai abbiamo letto Ah sfigato vieni qua Eh aspetta perché c'ho poca vita un secondo Ok dai 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 Sì grande No così impara a distruggermi il letto finocchio Ok è stato abbastanza semplice ho rischiato abbastanza Però dai ce l'abbiamo fatta Allora devo andare un attimino qua per provare a prendere qualche smeraldo Perché ne ho bisogno veramente in questo momento Devo farmi assolutamente Eh però è cristo C'è il rosa Perché regà ho veramente bisogno di farmi la spada in diamante Altrimenti qua non vado più avanti Solo che appunto il rosa ha appena fatto razzia degli smeraldi qua Quindi non c'è più nulla Ok un diamante l'ho trovato Però ovviamente non basta Me ne servono tipo sei Boh Altro smera Sì diamante Ho detto diamanti Mi sembra di sì Eh che cazzo vuoi Ok questo qua ne ho spannato un altro Comunque siamo a quattro smeraldi Dovrebbe averne spawnato un altro Oppure quello là Tanto il bianco appena arriva qua abbiamo capito che lo spacco in due Eccola porco Ok 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 Regà è fattibilissimo Dani tranquillo Solo che lui c'ha la spada in diamante No è questo che mi preoccupa di più Però l'abbiamo fatto fuori proprio Easy easy Va bene perfetto Eh potrei andare da lui eh Però no è troppo lunga la strada Quindi meglio fare le cose con calma Minchia regà ho appena visto adesso Abbiamo preso 11 diamanti È tanta roba eh Perfetto adesso abbiamo anche gli smeraldi Per farci tranquillamente la spada La spada Sì la spada Buono abbiamo anche 21 diamanti Quindi tanta roba Personalmente vado a rinforzare l'armatura E potrei fare protection 4 Protection 4 si chiama non lo so Ok la eccolo il bianco Ciao bello Oh non ha più la spada La spada in diamante Ehi Stai indietro zio Stai indietro Guardalo 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 Lo becco lo becco lo becco L'ho preso E se ne va giù Ok ho fatto Ok abbiamo la protezione al massimo Quindi per questo non ci può Porco 2 che spavento zio Minchia ma sei deficiente Ma Ma porco boia Ma vai a fare in culo E vai Tornatene nella tua isola va Ma guardalo Ma è scemo Ma regà ma è stupido Ma è veramente babbo questo Perfetto abbiamo l'arco con punch 1 E power 1 Quindi siamo a posto il 100% Ancora zio hai rotto il cazzo eh Minchia rega lo prendo sempre Guardalo 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 Eccolo 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 Dai ma che palle ho Ok Perfetto finalmente Boh adesso Allo stick Allo stick Allo stick Mannaggia lui Allo stick Pezzo di A 0 cuorino Mamma mia regà che culo Mamma mia regà che culo Qua c'è andata abbastanza di fortuna Perché veramente Fiu Madonna Boh io mi sono rotto le balle Sinceramente di questo Quindi andiamo a distruggergli il letto Non penso che comunque abbia fatto l'ossidiana Oh bella lì Grandissimo Pirla Per non abbia l'ossidiana Comunque non ha l'ossidiana Il letto è stato distrutto E ora possiamo solamente fargli L'agguato finale Per buttarlo All' All'inferno Perché veramente regà Non ne potevo più di questo qua Perfetto Andato via Anche questo Un altro è stato fatto fuori Oh signori Questi qua che Eh cazzo Quello là Ha fatto la tecnica Con la furba E ha coperto tutto quanto Con l'acqua Però noi Possiamo ancora vincere Allora Manchiamo Noi E Quello rosso E I rosa Che sono entrambi là Perfetto Guardali là Che carini Ora Questo qua Se ne fila proprio giù Con tanto Con tanta simpatia L'ho preso Quindi se ne fionda giù Quello là Distrugge il letto È perfetto Abbiamo aiutato Abbiamo aiutato Quello là Il rosa Distruggere il letto Non penso sia stata Una grandissima mossa Comunque Benchia No regà No regà Madonna No regà No regà Veramente Regà Veramente Sono troppo Troppo forte Con l'arco No Eh regà Qua ho fatto la cazzata io Però eh Qua ho fatto la cazzata io Però Perché No 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 Eh perché non mi aspettavo La trappola Qua ho sbagliato io Qua è mia colpa Regà Qua è mia colpa Però se noi lo buttiamo giù Con l'arco qua Che tanto abbiamo anche punch 1 Perfetto Così Qua riusciamo a tappargli tutto Stalottura di coglioni Allora Devo farlo fuori Devo farlo Eh la madonna Minchia No vabbè Ultimamente sono qualcosa di assurdo Eh ve lo giuro Ok Il letto è stato scoperto Quindi il letto No 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 Ok ok Regà No regà Mi sta salendo l'ansia adesso Ok Vieni qua Bello Vieni qua Bello Vieni qua Bello Perfetto Regà Regà è vinta Regà è vinta Regà è vinta Adesso basta che ritrovo il buchetto Eccolo qua Il letto È dato Distrutto E ora basta solamente aspettarlo Quindi ci siamo fatti praticamente una partita senza letto E siamo comunque riusciti a vincere Bella bro Bella bro Ti sei fatto lo stick Ti sei fatto lo stick Ma non ti servirà praticamente a niente Credo Spero veramente Ok Regà è morto ormai Regà è morto È morto È morto È morto È così Vai ultimo colpo Ultimo colpo di arco Non va di arco L'abbiamo ucciso L'abbiamo vinto 17 kill GG Mamma mia regà che partita Tanta roba veramente Quindi regà Vi saluto Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Anzi il mi piace è praticamente d'obbligo Inoltre vi invito a iscrivervi al canale Condividere magari il video E boh Facciamo Regà È ok Magari questi qua sono abbastanza semplici Perché insomma Sì È un server un po' easy Diciamo Però insomma Ditemi se magari volete queste Queste Le bad words Tipo negli high pixel Non so Qualcosa del genere Così da farle un po' più interessanti Comunque Il nuovo re delle bad words è qua Altro che canda Lo stefani E comunque regà Vabbè sto scherzando Niente Ci vediamo nel prossimo video Lasciate un mi piace Condividete Iscrivetevi al canale Bello